Carlo, via la di Stefani ci sbagliamo sempre! Cosa ne faccio di un panettone? Gli altri dove sono? Stanno impastandoli! Ma quante volte li impastano? Cinque volte, così restano più dolci e soffici! Ma siamo pazzi? Facciamo i panettoni con cinque impasti, soli rassi d'uovo e addirittura il miele! Ma chi sono io, Babbo Natale? Grazie!